Sì, sono usato. I trattici, sono tornato in un settore particularmente in gruppo. Oh, chi è? Chi è? Oh, chi è? Ora quanto sei bellino eh? Chi è? Ma che cazzo del suo? Chi è? Chi è? Chi è? So io. Chi è? Quanto ti sono mancato da 1 a 10? 10 E' vero? Tutto il giorno a genitore E' vero? Domani si riparte Ci vorrà fare le cose, tutte le cose Ci vorrà fare il presepino Oh, ne incominciamo con questo presepio Dove che fare il presepino Oh, che mi ha fatto Nonna Maria Come dice da quello, conta Vai Cappelletti, mamma mia Incredibile 10 gradi all'esterno Ma sta nevicando Guardate come nevica Sta facendo la neve sopra il lago di Cappelletti Guardate come sta nevicando Riaprono anche tutte le piste da pattinaggio sul lago Incredibile, guardate come nevica Sta nevicando ancora Guardate come nevicando Guardate come nevicando Guardate come nevicando Fermati Attenzione Non è che rispondo Tu sei biancaneve che mangia la mela Sì Sì, non te nani Guardate che cotonfiocchino Fermati Guardate che cotonfiocchino Fermati Guardate che cotonfiocchino Chiapri 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 Attenzione Eccolo O no Arzughe Sì 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 Beve in un altro goccio Dai Oh porca Ma Beve in un altro goccio Beve in un altro goccio Beve in un altro goccio d'acqua Manca e metto la pezza Ma perché? Perché basta Beve in un goccino d'acqua Vai Vai Bevelo Sì 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 Abbaia 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 Beve meglio Bu Me Abbaia 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 un attimo No Perfetto L'interno E' vesco Abbaia Managgia E' Sarà preso Inamos Sì